Danilo, innanzitutto auguri, poi smaltita la strigliata di Zemmone. Vabbè, la strigliata è normale, non abbiamo fatto la prestazione, di conseguenza non è venuta la vittoria. Adesso dobbiamo preparare bene la gara contro l'Albino Leffe. È un problema di concentrazione o anche di tenuta fisica? No, forse può essere tutte e due, ma ci sono delle gare durante l'anno che magari sei meno brillante delle altre partite. Noi adesso dobbiamo prepararci al meglio e affrontare quest'altra partita, come ho detto prima, per portare a casa la vittoria. Errori complessivi ma anche individuali a Castellammare da eliminare già sabato contro l'Albino Leffe? Sicuramente, siamo qua per crescere e per migliorare e non vogliamo ripetere i stessi errori, se no non sarebbe costruttivo. Tornare all'Adriatico sicuramente sarà un tocca sana per il Peschiar. Sì, abbiamo fatto dei vittori importanti all'inizio e quindi ci darà più carica sicuramente del campo che abbiamo giocato a Castellammare. Senti, da qui in avanti speri di avere maggiore spazio di quanto ne hai avuto fino adesso? Spero, ho avuto un po' di problemi fisici, ora sto bene e quindi mi metto in gioco e cerco di dimostrare quello che valgo. Ti candidi per una maglia da titolare già dal fine settimana che verrà? Sicuramente, mi candido sempre per una maglia da titolare, poi le scelte aspettano al Mista.